Con 50 forni delle pizzerie storiche napoletane ed un ricco programma di musica, cultura e spettacoli, torna sul lungomare Partenopeo dal 13 al 22 settembre la nuova edizione di Napoli Pizza Village. È il primo festival gastronomico al mondo che solo l'anno scorso ha registrato un milione e 50 mila presenze, di cui il 30% proveniente da fuori regione. Siamo alla nonna edizione, 45 pizzerie, un chilometro e 200 metri di stand, 200 metri quadri occupati, prodotti biodegradabili, un panel di artisti e cantanti assolutamente consistente, ma soprattutto è un evento perché il Pizza Village è uno di quegli eventi che insieme all'America's Cup ha cambiato la storia della città di Napoli. Dieci giorni dedicati alla promozione turistica e gastronomica del territorio, che vedono protagonista indiscussa la pizza, oggetto di convegni, dibattiti, iniziative didattiche e competitive come il campionato mondiale del pizzaiolo dal 16 al 18 settembre. Abbiamo, diciamo, come la solita pattuglia asiatica, quindi giapponesi, taiwanesi, quest'anno affiancati anche dai cinesi, che sono la nuventri, ma più di tutto la massiccia partecipazione americana. Abbiamo 50 attori del mondo della pizza americana, tra cui anche il fondatore del Pizza Expo di Las Vegas, il più grande pizza show del mondo, con i quali noi faremo l'American Division, quindi si confronteranno sia proprio sull'American Division, quindi sulla pizza americana, ma anche sulla pizza napoletana. Gratuito come ogni anno l'accesso al villaggio e agli eventi, a pagamento del ticket menu al costo di 12 euro, acquistabile anche online, e nel rispetto dell'ambiente il materiale in plastica sarà sostituito con prodotti biocompostabili e biodegradabili. Novità che fa l'ingresso quest'anno? Ce ne sono due importanti, credo, nel Pizza Village. Una è quella della pizza contemporanea, oggi questi giovani ventenni pizzaioli vogliono uscire fuori con delle tecniche nuove di impasto, tecniche nuove di lievitazione, hidratazione, fermentazione, c'è un gran parlare, condizione pronunciato, e nel Pizza Village troveranno grandi spazi, addirittura con una giornata dedicata con il nostro prodotto nuvola e il nostro lievito secco. Altra elementa importante è che tutte le pizze dell'area ospitalità sono figlie del progetto Granostrum di Monio Caputo, quindi saranno realizzate con 100% dei grani del Sud Italia. Con l'acquisto del ticket menu alle casse del Napoli Pizza Village si acquisisce anche un coupon omaggio per il derby del Trotto dedicato a Luciano De Crescenzo in programma domenica 22 settembre alle 18 all'Ippodromo di Agnano.